Salve ragazzi, è andata così, l'Atalanta purtroppo quest'anno ha avuto la meglio tra campionata e Coppa Italia, ha avuto la meglio sul Milan. Cioè no, abbiamo pareggiato, non abbiamo perso, per chi non l'ha vista, perché d'altronde col titolo lo capite. No, no, nel senso, non siamo riusciti a batterla, a me dispiace che abbia vinto, tra virgolette, Decatelar, perché per quel ragazzo sto cominciando a provare un'antipatia assurda, è diventato di una spocchiosità unica. Però vabbè, tornando alla partita, gara, allora, sia chiaro, voi che sul canale mi conoscete non mi sono mai attaccato alle questioni arbitrali, perché io, insomma, sono una persona molto corretta, lo sapete, quando c'è da perdere, lo dico, con la Serenitana abbiamo pareggiato e meritavamo la sconfitta, con Lecce pure, l'ho sempre detto, meritavano gli altri in quel caso, pure con, mi sembra che l'ho detto pure con, come l'aspetta che pareggiamo l'ultimo minuto, o no? No, vabbè, vabbè, comunque, lo ammetto sempre, però ragazzi, non bastava la ladrata in Coppa Italia, ma qui veramente da ladro a culo, perché sì, vabbè, l'Orsato ci ha regalato all'Atalanta un ricore che non c'era, dici, non è ladrata, qua più culo, perché nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per fare il 3 e il 2 a 1, o addirittura se l'avessimo segnato il 3 a 1, cioè, capito, abbiamo avuto le occasioni qua per farle, quindi c'è più che ladrata, culo, ecco, culo si può dire, culo, Atalanta purtroppo siamo a più 5 su Bologna, più 6 sull'Atalanta, eh, perché, o sbaglio, aspettate, no, 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 siamo rimasti stessi, è più 7 sull'Atalanta, più 7 sull'Atalanta e più, e più 6, sbagliato, scusate, sbagliato, perché 48 e, no, perché 48 e 5 sull'Atalanta sono 5 punti, quindi sì, più 5 sul Bologna e più 7 sull'Atalanta, quindi, vabbè, il Milan, quantomeno il Bologna sta ancora in zona Champions, quindi mi fa piacere, l'unica cosa positiva è questa, e poi c'è da dirlo, abbiamo visto stasera, mi metto più vicino, scusate, abbiamo visto un gran bel Milan stasera, sincero, pensavo che ci cacassimo sotto contro di Loli, invece abbiamo reagito, cazzo, ora c'è Lazio-Milan, testa a quella, abbiamo vincito per sorpassare, cioè per rimanere, insomma, attaccati là, purtroppo una Juve, la Juve ormai è in, cioè, ma più o meno 4 dalla Juventus, quindi oramai, raga, ve lo dico, scordiamoci di arrivare secondi, al massimo arriveremo terzi, però, c'è speranza che se la Juve vince la Coppa Italia, io glielo auguro, sinceramente, arriveremo anche noi in Supercoppa Italiana, però, ripeto, pure se, pazienza, ragazzi, cioè, insomma, sono più competizioni, ma capì un conto, vabbè, 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 allora, dicevamo, praticamente, tornando al fatto della partita, allora, scordate, in due minuti non ho detto, ho parlato del culo Atalanta, non ho parlato della partita, allora, un Milan che convince, sinceramente, però deve essere più costante, è un peccato, perché, ragazzi, non mi venite a dire che quello era rigore, quello non è mai rigore, perché, raga, l'ha preso qui, ma manco l'ha toccato, gioco pericoloso, ma cosa, che quello si dà la manata in faccia da solo, quello non era rigore, era una simulazione bella e buona, però, comunque, rigore concesso, 1-1, Kupmeiner, se purtroppo Mignan ha sbagliato lui, perché il tiro alla centrale, potevi intuirlo, sinceramente, però, vabbè, purtroppo, 1-1, ingiusto, il Milan, fecino, ha fatto un gol con l'Leao, fantastico, poi va alle telecamere a fare così, ma che cazzo fai così, Rafa, che ha fatto 4 gol in questa stagione, in Europa League, no, che dico, in campionato, comunque, mi rosico parecchio, perché meritiamo la vittoria contro l'Atalanta, doveva essere sconfitta l'Atalanta di Kinderino, ma vabbè, tanto non preoccuparti, che la Coppa Italia non la vinci, ah, e inoltre l'Europa League ti faranno fuori in 4 secondi quelle del Real Betis, non preoccuparti, mediocre sei e mediocre rimarrai, coglione, comunque, tornando a, tra l'altro, Gabbia non ti ha fatto toccare mezzo pallone stasera, ma che cazzo hai fatto stasera, decatela, l'avete strarubata, vi siete fatti mettere le palle in testa da noi, per qualcosa come, non dico 90, ma, 80 buoni minuti ve l'abbiamo messo in testa, voi avete fatto, alla fine, molti meno tiri in porta del Milan, cioè Carnesecchi ha fatto i miracoli stasera, comunque, e anche noi molto sfortunati, Giroud colpo, diciamo, non si gira bene, Loftus-Cic non fa bene il tiro, Pulisic la manda di poco fuori, un Milan che meritava il 2-1, però non è riuscito a vincere bene, allora, già non è riuscito a vincere, intendo, non è male, comunque, scusate, allora, passiamo alle pagelle adesso, Meignan, voto 6, normale, per il rigore potevi fare un po' meglio, però lì non è colpa tua, purtroppo è successo, potevi fare meglio, ma non ti do tante colpe, Teo Hernandez, voto 6,5, sei stato grandissimo Teo, eh, purtroppo è andata come è andata, Florenzi, bravissimo a mantenere, a mantenere poi quando è entrato Lucman, sei stato davvero bravo, Spizzi, Florenzi, sei stato bravo, dicevamo, allora, voto 7, va, te lo voglio dare, 7 meno, va, 7 meno, Florenzi, Calabria, sei normale, sufficiente, ma non troppo, anche perché pure tu che ti sei maniato, veramente, hai in faccia a carne e secchi con quel triangolo perfetto, se c'era Spizzi magari segnava, vabbè, eh, centrali, Gabby e Teo, gran bella coppia, ripeto, forse Gabby ha fatto meglio, perché Malik, però dai, tutte e due, 6,5, 6,5 ci sta, poi allora, eh, non è entrato più nessuno, Simic, non è entrato, ma vabbè, questo era un big match, quindi posso capire, e tra l'altro big match pareggiato quando meritavi la vittoria, un po' ti rode pure un po' il culo, però vabbè, siamo davanti all'Atalanta, e questo è quello che conta, siamo a più 7 su di loro, quindi, insomma, la situazione non è cambiata, io mi auguro solo, sembra strano, eh, perché io odio l'Inter, ma mi auguro che gli interisti gli aprano il culo ai bergamaschi, così almeno fanno una cosa buona, tenerli lontano da noi che dobbiamo vincere, però non dobbiamo vincere le altre partite, spero che mandino fuori l'Atalanta, l'abbiamo fatto noi nel 2022, non potete farlo voi che quest'anno avete tutto dalla vostra parte, ripeto, in campo, gli errori abitari sono avvenuti fino a dicembre, poi non li hanno più avuti a favore, cioè, gennaio sono la supercoppa, però vabbè, questi non sono affari miei, allora, tornando alla partita, Benasser, voto per Benasser, io direi un bel 6,5, dai, hai fatto, non benissimo, ma comunque hai fatto molto bene pure tu, bentornato Ismael, Adli per me si è stato fantastico stasera, voto anche a te, 7 meno, dai, ci sta, sei stato molto bravo Adli, veramente bravo, e c'è gente che diceva riposa Reinders, per una volta il, beh, io sono pelato anche io, vabbè, il genio di Parma, per una volta ha azzeccato il fatto di tenerlo, di far riposare il povero Tiziani, che non è entrato in campo Power Reinders, ma Lazio Milan dovrà entrare, comunque vabbè, dicevamo, Loftus Cic, sei normale, sei stato bravo, Ruben, ma no, vabbè, sei e mezzo, va sei e mezzo, te lo alzo, purtroppo non ti do il set di Adli, perché quel gol potevi farlo nel secondo tempo, Ruben, Leao, 8, il migliore della partita, c'è stato grandissimo Raffael, questo è Leao che vogliamo vedere, e ho sentito che dicono le testate giornalistiche, cioè non quelle là ufficiali, quelle di cui mi fido, Forza Milan, dicono, che se una pagina che seguo vi invito a seguire, la Forza Milan, si chiama tutto maiuscolo, si trova su Facebook e su Instagram, Forza Milan Book, praticamente, hanno detto che Leao abbia caricato l'ambiente, dicendo che lui vuole restare, e che vorrebbe compiare gli obiettivi col Milan, quindi dovrebbe essere tornato Leao di prima, speriamo, facciamo corna, Allora, dicevamo, lui il migliore, Giroud, eh, qua 5 e mezzo, non è fatto bene quanto ci sente la mancanza di Jovic, ma vabbè, Pulisic, 6 più, un po' meno rispetto alla partita con Ren, che però quella è da dimenticare, però mi piace la prestazione, però la prestazione mi piace, Okafor senza voto, poverino, ha giocato 5 minuti, che dobbiamo fare, ma vabbè, chi ci sta, Okafor, Ah sì sì sì, non l'ho detto, Musa, Musa 6 più, anche te Yunus, mi piace la partita che hai fatto, Pioli, stavolta 6 e mezzo, devo essere sincera, hai fatto una buona, gli allenati bene stavolta, occhio ora alla Lazio, Lazio e Milano dobbiamo vincere, dobbiamo assolutamente vincere, in trasferta, mh, mo basta fare questa, dobbiamo vincere in trasferta, contro la Lazio, comunque vabbè, lasciamo perdere sempre forza Milan, ragazzi, Atalanta, merda, e vabbè, che vi devo dire, ciao,